In apertura il processo di primo grado per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di piazza Augusto Sagnotti ad Amatrice. Il Tribunale di Rieti ha condannato a complessi di 36 anni di carcere tutti e 5 gli imputati. Per tutti l'accusa era di omicidio colposo plurimo, crollo colposo, disastro e lesioni. Il crollo delle palazzine il 24 agosto del 2016 causò la morte di 18 persone e il ferimento di altre 3. L'inviata è Gemma Giovannelli. A me e mia mamma non in realtà nessuno. Però capire che per esempio c'è stato qualcuno che non ha fatto quello che doveva fare è una cosa che fa male, fa molto male. Non hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare, costruire rispettando le norme antifismiche. La giustizia è stata fatta per tutte le persone che ci sono mancate. Con pene che vanno dai 5 ai 9 anni di reclusione, per taluni superiori di un anno rispetto alle richieste formulate dal pubblico ministero Rocco Gustavo Maruotti, oltre all'obbligo del risarcimento danni e al pagamento delle provvisionali nei confronti delle vittime, sono stati tutti condannati in primo grado dal giudice Carlo Sabatini, i 5 imputati ritenuti responsabili del crollo delle due palazzine popolari gemelle, ex ater di Amatrice, dove la notte del 24 agosto trovarono la morte 18 persone. Questa sentenza dice intanto una prima verità, che il sisma del 24 agosto del 2016 non era affatto un evento eccezionale. Ciò che rammarica è che c'era un modo di speculare sull'edilizia popolare, che in questo caso è risultato talmente evidente che non si poteva non tenerne conto. Un processo a chi è costruito male e a chi è stato responsabile della morte di 18 persone, intere famiglie distrutte, decimate sotto il crollo di quelle due palazzine. E oggi il giudice ha dato una verità, la verità è che queste morti poteranno essere evitate e che comunque ci sono delle responsabilità umane e non è colpa del terremoto. È una sentenza che sempre per il nostro ordinamento, che prevede tre gradi di giudizio, ci consentirà in appello di dimostrare che i responsabili di tanti morti, in questo caso non sono stati i cinque imputati di questo processo, ma l'unico responsabile di tanti morti è il sisma.